Quarirai prima o poi Se la gente mette non perderti Tu sai già che ho dentro me La speranza di salvarti e salvami Noi manderemo via questa malinconia Siamo in viaggio per la nostra libertà Non ci fermerà l'ignoranza E buio ti costringerò Sempre a crederci Se l'amore cura Amo Siamo in due E non ti perderò Guarirai Resterai Vinceremo questa guerra Te lo giuro Tu sai già che ho dentro me La speranza di salvarti e salvami Noi manderemo via questa malinconia Siamo in cerca della nostra verità Non ci fermerà Non ci fermerà L'ignoranza E buio Ti costringerò Sempre a crederci Se l'amore cura Amo Amo Siamo in due E non ci Perderò E allora abbiamo aperto con questa bellissima canzone dal titolo L'amore cura Con noi l'interprete di questo brano Pat Girondi Ospite della puntata odierna di Canale 2C Grazie per essere venuto Pat Parliamo di questa tua nobile causa Intanto parliamo di questo brano L'amore cura E in effetti lo dicono in tanti Oramai è stato acclarato Insomma che con l'amore si può anche fare cose impensabili Cose impossibili Allora Questo brano Per me è speciale L'ho scritto io le parole eccetera L'anno scorso una famiglia americana che hanno perso un figlio Noah Lui aveva 14 anni e è morto dalla malattia Buttons La famiglia ormai per otto anni nove anni da quando è stata diagnosticata Collaboriamo strettissimi E dopo è morto Noah La famiglia mi regalavano una Versace originale Una giacca originale Versace E mi chiedevano di indossarlo Per Noah E di fare il concerto Per Noah Infatti abbiamo fatto il primo concerto dell'Orphan Dream Norte delle malattie rare A Casacava il 28 dicembre Un mese e mezzo fa E indossavo questa giacca Mi sentivo A proposito di Casacava Abbiamo alcune foto Che adesso guardiamo assieme Presentiamo l'artista che era con te Megan Huker Yes Megan Huker è professore di Belle Arte di Chicago La prima scuola delle Belle Arte di tutti gli Stati Uniti O Yale o la Belle Arte di Chicago Lei insegna Nonostante che ha 34 anni È una scuttrice molto noto Vende pezzi per decenni di migliaia di euro E lei ha scoperto questa missione nostra E lei ha fatto la statua con il Versace E noi abbiamo presentato a Franco Locatelli Il primario di Bambino Gesù Dei Trapianti E lui è stato il primo Si dice recepiente Il primo Lui è il primo vincitore Ah! Prima vincitore Scusate Scusate Il primo vincitore Questa statua delle malattie rare Che adesso in poi Lo faremo Ah! Quindi faremo un evento annuale Sì! 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 Per prendere lo spirito di queste iniziative Diciamo Ecco qui vediamo Ti vediamo in questa foto Questa è la giacca Questa è la giacca Questa è la famosa giacca di Noah Tu hai indossato per rispetto della famiglia Sì! Brava! E francamente mi sono sentito E ho avuto Ho avuto un effetto magico di questa giacca Perché veramente mi sento che ho esibito molto bene Senti poi qui c'è un'altra foto che Allora questa è Megan Euker E lei ha la statua Ah! La guardiamo meglio La statuetta La statuetta fra le mani Bravo! Che andava al Franco Locatelli di Bambino Gesù quest'anno E dietro ci sono i componenti Sì! Enzo Matera, Marco il gruppo dell'Orphan Dream Qui vediamo ancora te a ritratto Mentre tieni questo concerto all'interno di Casa Cava Sì! Abbiamo passato il grande Ivani Teot di Altamura Il nostro trompetista Una bellissima esperienza Perché avete suonato all'interno Nel cuore della terra Diciamo così Sì! Casa Cava è un posto Io per me I tre posti più belli che sono mai esibito Il Harris Theatre a Chicago Quando ho aperto per Renzo Arbor E poi ho fatto altri spettacoli E il teatro di Narni Sopra in Italia E Casa Cava Per me Non lo so I posti più intimi I più belli per esibire Peccato che lì diciamo non può entrare molto pubblico Perché è limitata un po' la situazione Però l'acustica è buona Sì! No, è bellissimo E poi il gruppo organizzativo Scusami Dietro conosco un paio Bastanza bene Bravi persone Molta umanità E mi piace questa iniziativa Che non è soltanto di soldi Però di far bene Voi avete tenuto questo concerto all'interno di Casa Cava il 28 dicembre Quindi fra Natale e Capodanno Sì! Avete raccolto fondi? No, no Allora Io ero molto amico di Susanna Agnelli Infatti durante il concerto io dimostrava una foto di Susanna e di me Dove lei mi sta facendo i papillon Era nel 2001 mi pare quando le Teleton andate negli Stati Uniti per raccogliere i fondi Allora noi non raccogliamo fondi Niente Anzi abbiamo regalato pure una quarantina di cd dopo Autografato E' una cosa un po' mia E alla fin dei conto Quello che faccio io è un po' che il Papa Il mio più grande diciamo eroe moderno Dice di dobbiamo amare Sì, Papa Francesco De che dobbiamo amare e spingiamo avanti E io ho visto miracoli con le nostre iniziative Che non c'entrano assolutamente niente con i soldi Senti, di te ha parlato anche il New York Times Sì, allora L'articolo della Sloan Kettering parla delle nostre iniziative Che ormai è iniziato negli anni 90 Per spingere la guarigione genetica Per i falciformi E noi Il New York Times ha deciso di fare questo articolo Che mi vedono come un tipo di gladiatore Un po' come si dice quando le persone sono diversi Non tipico Fuori dal comune Delle grandi casse farmaceutiche Delle grandi CEO Eccetera eccetera Che facciamo le cose tutte un po' diverse dagli altri Voi che mi conoscete d'Altamura Matera Bari Zone Diciamo Mi conoscete Che è un po' Persona un po' più strano Più diverso In America ancora di più Già come sei vestito Sì, bravo Gli americani ancora di più E poi è bello e simpatico Perché quando gli altamurani o gli italiani Più che altro Potrebbe essere Roma, Milano Perché sapete che sono stati su una mattina Diversi programmi eccetera Ormai dicono No, ma lui è così perché è americano Gli americani dicono No, ma lui non fa niente Lui è così perché è italiano Ok, quindi sei nel mezzo Va bene Ognuno è com'è Perché è quello che è Brava, brava È così È così Il vostro è un pensiero nobile L'amore cura È un brano che descrive proprio Sì E infatti voi state vedendo in edit Questo non è nemmeno finito questo brano Però il grande rispetto che ho per te Per Canale 2 Per il popolo adottivo altamurano mio Nonostante che magari ci sono un paio di cose Che saranno modificate o migliorate eccetera Io mi tenevo molto che voi avete visto Come era Grezzo diciamo Come sono io No, no, vabbè Diciamo vedere un lavoro A livello diciamo Fatto ancora Prima di essere elaborato Sì, brava, brava La voce ormai è sempre tutto mio Però sai che esteticamente Magari fanno altre cose Invece questo è proprio il video com'è Allora Pat Prima di concludere In questi giorni Diciamo in corso di svolgimento Ho fatto il festival della canzone italiana Tu hai sempre detto Io non capisco Perché voi italiani Nei bar Le radio locali eccetera Trasmettete musica americana Quando invece uno viene in Italia Dal resto del mondo Per ascoltare la vostra bella musica italiana Sì, allora è un poco più complesso Allora io amo la gente È una cosa che ormai è più forte di me Se non sto facendo qualcosa per qualcuno Non sto bene Gli americani quando vengono in Italia Ridono Perché sentono musiche inglesi Io rido insieme con loro Allora se dobbiamo veramente salvare l'Italia economicamente eccetera Si inizia con le piccole cose Di non comprare su Amazon Di suonare musica italiana eccetera Di guardare film italiani eccetera 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 Ma io dico la stessa cosa negli Stati Uniti Quando io sto negli Stati Uniti La macchina mia è americana Le cose che faccio io Provo di prendere i prodotti americani eccetera eccetera E allora è la mia piccola crociata Si dice così Crusades E che io insisterò Che per salvare l'Italia In un certo senso che è già salvata Per l'amore di Dio Si vive meglio in Italia Di qualsiasi altro paese che conosco io Francamente Avete la sanità Cose che possiamo iniziare Però Arturo non piace la politica Allora rimaniamo Lasciamo la politica Bravo Lasciamo sulla musica Diciamo Però l'Italia forse è il paese più grande del mondo Perché è soltanto un uomo su 120 in italiano Invece vedi veramente l'affetto che l'Italia ha avuto sul mondo Con la musica, con i film, con il cibo, con i design vestiti eccetera eccetera Allora io sempre dico a voi italiani Dovete essere più chi siete Smettere di imitare le cose che ti portano alla rovina Cibo processati Cambiare i nomi Dare i nomi di figli americani, inglesi Queste cose Dico abbracciatevi Vostra tradizione e cultura È l'unico salvezzo vero Diciamo che il boom economico dell'Italia Quello degli anni 60 È nato grazie a un mix fra l'industria che nasceva al nord Un po' di organizzazione politica nel centro Italia E il sud che invece promuoveva gli spaghetti, la tarantella È vero E diciamo questo mix della bandiera tricolore Perché poi la bandiera italiana secondo me è proprio giusta per l'Italia Perché erano il verde, il bianco e il rosso Dobbiamo questi tre colori Ecco il mix del cibo, del sole Dei vestiti Dell'amore, delle tradizioni, la moda Insomma ha fatto dell'Italia davvero una cosa enorme Ma purtroppo i nostri italiani Diciamo degli anni 60, 70 eccetera eccetera Si è fatto sognare il mondo di vestire italiano Di mangiare italiano E poi con Mastroiani e i nostri artisti Domenico Modugno eccetera eccetera Ormai il mondo voleva vedere i film italiani Sentire musiche italiane eccetera eccetera Ci sono stati anni in cui nel cinema anche i film western italiani Sì, bravo Sono inventati Clint Eastwood deve ringraziare gli italiani Che lui è diventato alla fin del conto lui Infatti ancora si chiamano spaghetti westerns Spaghetti westerns Allora io dico che nella vostra DNA Ce l'avete questo grande popolo italiano Che poi è un popolo misto di tutti i razzi Per l'invasione che si sono stati Africani, tedeschi eccetera eccetera Musulmani, ebrei eccetera E questo si fa grande la DNA italiano E che poi alla fin dei conto ce l'avete dentro di voi Invenzione Allora smettete Dico ai giovani sempre Butta quella sigaretta Che ti fa soltanto il danno E prende questo cuore italiano che avete E vivere in maniera decente E continuare di promuovere Essere italiano E dovete essere fieri Perché purtroppo vediamo le televisioni Tutti questi film E c'è tanti americani E c'è Che propongono soltanto le falsità Le cose che non fa senso Però fa propaganda Tante volte in favore dei nostri americani Giustamente E altre volte non giusto Eh vabbè Diciamo che la comunicazione è la novità Degli ultimi trent'anni Insomma è Viene utilizzata per confezionare Sì Anche l'immagine di noi stessi Sì E non possiamo dire che non è così Perché è così No è così È così Però ci sono paio di dati Che mi piace utilizzare ogni tanto Adesso lo uso questo Perché ieri proprio ho avuto Un piccolo Discussione Argomento Non discussione Con un signore che lamentava Dei servizi in Italia eccetera L'italiano vive 82.7 anni Il secondo popolo nel mondo Dopo la Giappone è 82.9 Gli americani che voi volete sempre paragonare Vivono 78.9 Quasi 4 anni meno Allora voglio dire I servizi in Italia La sanità in Italia La vita in Italia Il lavoro in Italia Tutto Ormai sta facendo qualcosa giusto Smettete di sempre sprecare Sprezzare O sprezzare Vostra cultura E lavora per farlo essere migliore Il grande problema è che stiamo arrivando Come hai detto tu Il grande boom economico Che il più povero in Italia 20 anni fa faceva 4 settimane al mare Ma in America Nemmeno i più ricchi 10% possono permettere Due settimane al mare Diciamo E allora Il punto è Che ci sono Le statistiche vere I fatti veri Che dovete vedere E non la propaganda Non questi Facebook Tutte quelle cose Che certe volte Propongono profetti Sbagliati O falsi Datti falsi Sappiamo che tu sei più Per la vita reale Per i rapporti umani direi Per l'amore Ormai sono orgoglioso D'essere cattolico E non che ciò Con nessun altro popolo Religione al mondo Lo voglio bene Perché per essere Un bravo cattolico Dei ricordare Che sono tutti i miei fratelli E se possiamo parlare Un po' di qualche successo A macerata L'altro giorno Quando questo uomo Ha preso la pistola Per sparare Sei immigrati Voglio ricordare Specialmente gli italiani Che pure voi Siete in ogni popolo Siete in ogni paese Del mondo Allora uno dice Ah sì Ma noi italiani Siamo bravi Noi italiani Proponiamo lavoro Eccetera Sì Però abbiamo pure Portato la mafia Nei Stati Uniti Dico Ci sono I lati positivi E negativi E ricordate Che questi ragazzi Che trovi Che chiedono Pleimosine eccetera Sono i nostri fratelli Sorelli Sono figli di qualcuno E Gesù Cristo Ci insegnava Che siamo tutti fratelli e sorelli E allora A questo momento Che Non parliamo Di politica Però pure Nel mio grande Presidente Che vado d'accordo con qualche cosa Altre cose Se no Dobbiamo ricordare che veramente Siamo veramente Tutti i fratelli Tutti i fratelli Non puoi Mai smettere Quei E' tutto anche per oggi E' tutto cari amici Vi saluto E ci vediamo E' un grande bacio Alla famiglia di noi a Chicago Ok Che ritengono molto per l'Italia E beh sappiamo tutti che amano questa nostra relazione Bene Alla prossima Vi vedrete con Arturo Gastoro